Il programma di lavoro e poi le operazioni di tesseramento che sono importanti in vista dell'esordio di domenica prossima in campionato. Abbiamo una possibilità di fare qualcosa di speciale quest'anno. Vi ricordiamo la tua esperienza con Brindisi, 36 punti in total. Sì, i due giochi erano molto difficili. Abbiamo avuto un anno difficile l'anno scorso in Pesaro, quindi uno dei nostri maggiori vinci ero in Brindisi, sul ruolo. Sono felice di essere qui, è molto importante. Sono felice di essere qui e sono felice. È incredibile, è venuto solo a Pesaro, certo? Sì, è incredibile, è incredibile. Ma come ho detto, sono pronto per cominciare e sono felice di essere qui. Che combinazione. Che combinazione. Cominciamo proprio da Pesaro, è veramente incredibile. Comunque lui ha ripetuto, sono pronto, sono contento di essere qui. Grazie a tutti. Grazie.